Musica Si è concluso il viaggio apostolico del Papa nelle Repubbliche Baltiche. In Estonia Francesco ha ricordato l'importanza della libertà e la bellezza di sentirsi parte di un popolo in uscita. Il Vangelo dà alla vita la forma buona. Al centro del convegno diocesano il desiderio di una conoscenza più approfondita della parola di Dio, l'appuntamento venerdì al villaggio del ragazzo. Contatto con l'agente e prevenzione parte da qui il lavoro del neocomandante dei carabinieri della compagnia di Chiavari. Il maggiore Gerardi torna a indossare la divisa dopo dieci anni di attività investigativa. Quasi 170 mila visitatori per la 58esima edizione del Salone Nautico di Genova. Numere in crescita rispetto all'anno scorso. Aumentate in particolare le presenze estere più 32%. Una festa dello sport per tutti e dell'inclusione. Successo per sport ci sono anch'io manifestazione promossa dal villaggio del ragazzo al centro benedetto Acquarone di Chiavari. Il cuore del grande basket batte per Genova alla Spezia amichevole di lusso tra Sassari e Pesaro. Una giornata di festa dello sport per sostenere la città dopo il crollo del Ponte Morandi. Buonasera ai telespettatori di Tiguglioggi. Si è concluso questo pomeriggio il viaggio apostolico di Papa Francesco nelle Repubbliche Baltiche. Nell'ultima tappa a Tallin in Estonia il Pontefice ha ricordato l'importanza della libertà e della bellezza di sentirsi parte di un popolo in uscita. Sentiamo. Essere il popolo eletto non significa essere esclusivi né settari, così come la forza di un popolo non si misura con l'imposizione ma con l'ascoltare e il cercare. Papa Francesco nell'omelia della Santa Messa con cui si è congedato dall'Estonia, dalla piazza della libertà di Tallin è tornato a declinare una parola, libertà, che è stata il filo rosso del suo viaggio apostolico fin dalla prima tappa in Lituania. Voi conoscete le lotte per la libertà, ha spiegato il Pontefice davanti ai fedeli presenti, per questo potete identificarvi con quel popolo, con gli ebrei fuggiti dall'Egitto. Alcuni si considerano liberi quando vivono senza Dio o separati da Lui. Non si accorgono che in questo modo viaggiano attraverso questa vita come orfani, senza una casa dove tornare. Cessano di essere pellegrini e si trasformano in erranti che ruotano sempre intorno a se stessi. Come il popolo uscito dall'Egitto, ha continuato il Papa, si deve quindi ascoltare e cercare. Uscire dalla logica del più forte. La forza di un paese non si misura con la minaccia di armi, spiegamento di truppe, strategia, atteggiamento che risponde solo alla logica dell'avere. Voi non avete conquistato la vostra libertà per finire schiavi del consumo, dell'individualismo o della sete di potere o di dominio, ha esortato Francesco. Questa sete che abita in ogni cuore umano, Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci incoraggia a superarla nell'incontro con Lui. E' Lui che può saciarci, colmarci con la pienezza della fecondità, della sua acqua, della sua purezza, della sua forza travolgente. Infine l'invito alla santità di Papa Francesco al popolo estone. Oggi scegliamo di essere santi risanando i margini e le periferie della nostra società, ha detto. Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Prima di celebrare la messa in Piazza della Libertà, Francesco nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Tallin ha incontrato gli assistiti delle opere di carità della Chiesa. Circa 100 persone assistite in particolare dalla Caritas e dalle suore di madre Teresa di Calcutta, tra le quali persone con problematiche di alcol, persone disagiate e ragazze madri. Dove ci sono bambini e giovani c'è molto sacrificio, ma soprattutto c'è futuro, gioia e speranza, ha detto Francesco, rispondendo alle testimonianze portate da alcuni fedeli, tra cui una mamma di nove figli. In questa terra, dove gli inverni sono duri, a voi non manca il calore più importante, quello della casa, quello che nasce dallo stare in famiglia. Ha fatto notare il pontefice, che ha invitato a continuare a creare legami, a uscire nei quartieri delle città per dire a tanti, anche tu fai parte della nostra famiglia. E Francesco in mattinata invece ha partecipato all'incontro ecumenico svoltosi nella Cattedrale Luterana a Tallin. Dopo aver ascoltato i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti in Estonia e le testimonianze di alcuni giovani, il Papa ha sottolineato quanto sia bello stare insieme. La pace, ha spiegato Francesco, è artigianale e aver fiducia negli altri è pure qualcosa di artigianale. Questa strada di cammino, ricorda, non si deve percorrere solo con i credenti, ma con tutti. Ma sentiamo a questo proposito un estratto del suo discorso. E' sempre bello riunirci, condividere, testimoniare la vita, esprimere quello che pensiamo e vogliamo. Ed è molto bello stare insieme. Noi che crediamo in Gesù Cristo, questi incontri realizzano il sogno di Gesù nell'ultima cena, che tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Se ci sforziamo di vederci come pellegrini che fanno il cammino insieme, impareremo ad aprire il cuore con fiducia al compagno di strada, senza sospetti, senza diffidenze, guardando solo a ciò che realmente cerchiamo, la pace davanti al volto dell'unico Dio. E se come la pace è artigianale, aver fiducia negli altri è pure qualcosa di artigianale, è fonte di felicità. Beati gli operatori di pace. E questa strada di cammino non la facciamo solo con i credenti, con tutti, tutti hanno qualcosa di dirci. Vediamo adesso in Diocesi dal Vangelo, la forma buona della vita. È il tema del convegno diocesano 2018, in programma venerdì al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. La chiesa di Chiavari si sta preparando per questo momento di preghiera e di lavoro, che vuole essere un punto di partenza per una conoscenza più approfondita del Vangelo. Modellare la propria vita sul tornio del Vangelo. Il desiderio emerso dall'assemblea sinodale di giugno confluisce nel convegno diocesano di venerdì al villaggio del ragazzo. All'inizio di un nuovo anno pastorale, la chiesa chiavarese riparte dall'indicazione del vescovo espressa dopo il lavoro dei tavoli. Iniziare un percorso di formazione e di conoscenza approfondita del Vangelo, per dare una forma buona alla vita. Si è deciso di scegliere questo taglio per il convegno di quest'anno, cioè quello di metterci in ascolto del Vangelo di Luca, che sarà il Vangelo che ascolteremo nelle liturgie domenicali l'anno prossimo, e poter a partire da questo ascolto poi avviare anche un percorso di riflessione e di conoscenza del Vangelo nei diversi ambiti della diocesi. Il desiderio dunque di mettere al centro l'ascolto del Vangelo attraverso tre azioni, la conoscenza, appunto, la meditazione e la condivisione della parola, un lavoro che proseguirà anche dopo il convegno diocesano. Per cogliere e sottolineare alcune tematiche che poi rilanceremo agli ambiti e dove poi i singoli gruppi potranno approfondire, lavorare e condividere fra loro. Il convegno si aprirà venerdì con l'accoglienza al villaggio alle ore 19, dopo la pericena, la preghiera, l'introduzione del vescovo Tanasini e la relazione di Don Luca Mazzinghi, biblista, docente e parroco a Firenze. Ci aiuterà Don Luca su due versanti. Uno è quello che dicevo, cogliere come l'ascolto del Vangelo ci pone in un cammino di conversione della vita. L'altro è una presentazione dei temi del Vangelo di Luca, e quindi una conoscenza non tanto erudita, ma soprattutto una conoscenza tematica che consentirà poi durante l'anno di portare avanti questo lavoro negli ambiti. Veniamo alla cronaca adesso. Disgrazie a questo pomeriggio in Alta Val Daveto, un uomo sui circa 60 anni è deceduto dopo essere caduto in un diruppo di circa 50 metri a Vico Soprano di Rezzo Aglio, nei pressi del Valico del Pescino. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito www.teleradiopace.com L'uomo stava passeggiando nel bosco, probabilmente in cerca di fondi, e per causa in via di accertamento è scivolato in un canalone. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e il soccorso alpino. Il forte vento ha impedito la possibilità di intervento con l'elicottero. I soccorritori, una volta raggiunto il corpo dell'uomo, ne hanno constatato il decesso. Lunghe e complicate le operazioni di recupero della salma che sono proseguite per tutto il pomeriggio. E' intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ieri sera in Val Fontana Buona. Poco prima delle 21 le fiamme hanno interessato una zona boschiva in località Precce, nel comune di Moconesi. All'origine del rogo, probabilmente la rottura di un cavo della media tensione provocato dal vento. Sul posto sono intervenuti anche i volontari antincendo e boschivo di San Colombano e Lavagna. Le fiamme si sono avvicinate anche da alcune case, ma grazie al pronto intervento dei pompieri non è stato necessario evacuare nessuno. Le fiamme sono state spente nelle prime ore di questa mattina. E' in corso la bonifica nell'aria interessata dall'incendio. Per le indagini sono portate avanti dai carabinieri forestali del comando di Cicania. E' anche in queste ore, anche nel Tiguglio, si sta assistendo ad un sensibile calo delle temperature provocato dall'ingresso di aria fredda di origine balcanica. La colonnina di Mercurio ha già registrato valori decisamente più bassi di quelli dei giorni scorsi. Questa mattina la centralina Limet del Prato della Cipolla a Santo Stefano Davito ha toccato i più 2,7 gradi centigradi. 6 invece quelli registrati a Rezzoaglia. Attualmente queste invece le temperature registrate dalla rete di monitoraggio del centro meteo Ligure. Anche sulla costa i valori in mattinata sono scesi tutti sotto i 20 gradi centigradi con percentuali di umidità relativa molto più contenuti. Nelle prossime ore sarà il vento sostenuto con raffiche tra i 70 e gli 80 km orari a caratterizzare lo scenario meteo che resterà nel complesso sereno o poco nuvoloso. E ancora la cronaca. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà un 48enne italiano residente a Viareggio. L'uomo nulla facente e pregiudicato è stato fermato a bordo della sua autovettura e da un successivo controllo è stato trovato in possesso di numerose borse contraffatte di note marche. Per un valore complessivo di 4.000 euro erano occultate nel bagagliaio. È scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. A Moneglia invece i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un trentenne residente a Sest Levante celibe di professione cameriere. Il risultato positivo al test alcolemico eccedente di gran misura e le limite consentito. La patente di guida gli è stata ritirata e il motociclo sottoposto a sequestro. Il contatto con l'agente prevenzione sono i due aspetti sui quali intende lavorare il nuovo comandante dei carabinieri di Chiavari insediatosi da appena 24 ore. Il maggiore Angelo Gerardi torna ad indossare la divisa dopo anni di attività investigativa al centro e al sud Italia. Lo abbiamo intervistato. Qual è stato il primo approccio con la città e il territorio? Le prime impressioni sono eccezionali, nel senso che è inutile che io decanti le bellezze del Golfo del Tigullio. Insomma, quindi particolarmente, oltre che onorato, è particolarmente felice di essere a Chiavari. Cittadina che colpisce immediatamente per l'ordine, per la cura con la quale si presenta all'ospite che arriva a Chiavari. Quindi un'ottima impressione iniziale, insomma. C'è un filo che continua in questi anni ed è quello della vicinanza, del rapporto tra l'arma dei carabinieri e la gente. È qualcosa che già sta respirando in queste ore? Sicuramente, da questo punto di vista, ci sarà assoluta continuità con quanto è stato fatto nel passato. Mi riferisco ai piccoli furti, mi riferisco alle truffe, soprattutto a quelle in danno delle fasce più deboli, quali possono essere gli anziani. Mi riferisco appunto ai reati predatori in generale, che sono quelli che cercheremo di perseguire. Hai già avuto modo di vedere quali sono alcuni degli aspetti più negativi di questo territorio da seguire? I miei collaboratori mi hanno già illustrato in generale quella che è l'importanza appunto della repressione dei reati predatori e quanto essi siano sentiti dalla cittadinanza. Quindi, diciamo, un quadro generale già mi è stato fatto. Adesso cercheremo nel più breve tempo possibile di scendere nel particolare. È nato a Roma, è cresciuto in Sardegna, ha avuto varie esperienze al centro Italia e al sud. Rieti, frascati in zona Roma e poi l'ultimo incarico importante a Messina. Adesso cambia in un certo senso il mestiere, passa dall'attività investigativa a quella più in divisa. Si sta abituando a questo? Confesso il piacere di tornare ad indossare l'uniforme dopo appunto circa dieci anni in cui ho prestato prevalentemente servizio in abiti civili. Diciamo che stiamo facendo lo switch che ci riporta a stare in mezzo alla gente in uniforme, che è un vero piacere qui a queste latitudini in cui ancora ho notato che la gente ha piacere a salutare il rappresentante dell'istituzione quando lo incontra in uniforme. La politica amministrativa adesso sono in partenza nel comune di Cicagna lavori pubblici per circa 100.000 euro. Sono stati infatti appaltati tre progetti di riqualificazione che vedranno via nelle prossime settimane. I primi a partire per una spesa di 50.000 euro saranno gli interventi di asfaltatura sulle strade frazionali per ripristinare le situazioni di maggior degrado. Seguirà l'installazione di 130 lampade stradali a led per l'impianto di illuminazione pubblica e la conversione, sempre con lampadine a led a basso consumo, di tutti i lampioni artistici presenti nel centro storico e sulle piazze del paese. Anche in quest'ultimo caso la spesa complessiva sarà di 50.000 euro. Si stima che il risparmio in termini di consumi e di elettricità sarà del 40%. Ai nastri di partenza infine il progetto di riqualificazione di Parco Cavagnari con la realizzazione di una nuova area giochi per bambini. I lavori dovrebbero venire assegnati entro il prossimo mese di ottobre per un impegno finanziario da parte del Comune sempre di 50.000 euro. E sono iniziati questa mattina alcuni lavori urgenti ai canali di scarico delle acque piovane in via Vinelli a Chiavari. Fino alla fine dell'intervento, ovvero per i prossimi 60 giorni, la via resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e via Gagliardi. Nel contempo è stato invertito il senso di marcia di quest'ultima via, via Gagliardi, tra via Assarotti e via Vinelli. E grande partecipazione a Rapallo per l'iniziativa Fondali Puliti. Nel corso della giornata di ieri, numerosi volontari sub, in collaborazione con gli uomini della Guardia Costiera, si sono immersi per ripulire il mare dai rifiuti abbandonati. Alla fine il bottino è stato ricco, purtroppo, per rigolette, oltre alla plastica e aggetti metallici, sono stati recuperati diversi copertoni di auto e motorini e addirittura due copertoni di notevoli dimensioni appartenuti ad un camion. E vediamo proprio la foto del bottino che è stato ritrovato in fondo al mare. Parliamo adesso di trasporto ferroviario scatta. Oggi il riconoscimento del bonus Liguria nei casi di mancato rispetto dell'indice di affidabilità del servizio ferroviario regionale. Come previsto dal contratto di servizio stipulato da Regione Liguria. Sono due le linee che sono risultati aver sforato i parametri nel periodo gennaio-luglio. Andiamo a leggerlo sul nostro sito. Per la linea Genova-Levante l'indice di affidabilità è risultato infatti del 3,4%, mentre per la Genova-Milano del 3,8% a fronte di un valore di riferimento del 2,3%. Compilando la modulistica messa a disposizione della Trenitalia, i titolari di abbonamenti mensili e annuali delle due tratte interessate potranno richiedere nelle biglietterie il bonus che consentirà l'acquisto nel mese successivo di un abbonamento scontato. Mese per mese verranno calcolati gli indici per ogni tratta e in ogni caso di superamento dello standard minimo verranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione i rimborsi compatibilmente con i tempi per la richiesta del rimborso. Restiamo su internet per andare a leggere il sito di Ansa Liguria. Ci sono aggiornamenti sul decreto che si sta aspettando per quanto riguarda la ricostruzione del ponte Morandi e il decreto per Genova manca ancora. La ragioneria generale dello Stato non lo ha bloccato ma lo sta sbloccando, affermano fonti del Ministero, smettendo categoricamente indiscrezioni. Il decreto viene spiegato è arrivato senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture e che i tecnici della ragioneria generale dello Stato stanno lavorando attivamente per valutare le quantificazioni dei costi e individuare le possibili coperture da sottoporre alle amministrazioni proponenti. Tutto questo, il decreto è giunto molto incompleto, si lavora dunque alle coperture nel testo nel giorno dell'incidente probatorio e della relazione della Commissione del MIT, incidente probatorio che si è svolto proprio all'interno di Palazzo di Giustizia a Genova. Vediamo proprio le persone che vi hanno partecipato. Restiamo a Genova perché ha chiuso i battenti la 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Ieri ricordiamo la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella. Durante i sei giorni di apertura sono stati quasi 170 mila i visitatori, numeri in forte crescita rispetto allo scorso anno. Sentiamo. Il Salone ha avuto un grandissimo successo, anche la città ha avuto successo con il dopo Salone. Abbiamo dimostrato che possiamo fare una cosa grande che non si può ripetere da nessun'altra parte. Quindi siamo orgogliosi, buon vento soffiato. Dovrebbe soffiare anche per tante altre cose che stiamo facendo. Si è chiuso con quasi 170 mila ingressi, circa il 15% in più rispetto ai 148 mila dello scorso anno, la 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Numeri importanti per una rassegna che sta risalendo la china dopo anni di forte crisi legata soprattutto al settore. In forte crescita poi il numero degli stranieri, quasi 60 mila quelli che hanno calcato gli stand e le banchine della Darsena. Un 32% in più, segno importante di rilancio per il settore per Genova e la Liguria, anche all'estero. Intanto, mentre si pensa all'edizione del prossimo anno, valutando un inizio posticipato ai primi di ottobre e il prolungamento di altri due giorni in più rispetto ai sei attuali, in questo caso un ritorno alle origini, si fa avanti l'ipotesi di un Salone Nautico aggiuntivo riservato esclusivamente all'usato. Nel frattempo, il capoluogo Ligure, ancora in attesa di notizie da Roma circa il decreto sulla ricostruzione per il Ponte Morandi, si goda l'iniezione di fiducia che la manifestazione ha portato in città. Noi dobbiamo fare in modo che il Salone di Genova sia ancora più diffuso e Genova diventi ancora di più una città ospitale per tutti quelli che vengono a vedere il Salone. Il Salone e il dopo Salone sono due cose che fanno la differenza e che invitiamo tutti a vedere. Lo sport ha un ruolo fondamentale non solo nell'educazione dei giovani, quindi anche di quelli non più giovani, lavorare assieme, lavorare come squadra, ma è anche ovviamente una fonte di turismo, è una fonte di ricchezza per la città. Noi sappiamo che abbiamo delle infrastrutture di primo ordine per quanto riguarda le attività sportive per la vela e quindi ci siamo candidati quest'anno al CICO che ha avuto un grandissimo successo e ci siamo candidati anche per l'anno prossimo e World Series per l'anno prossimo e anche per il 2020. Il cuore di Montepegli e di Rapallo batte per Genova. Questa mattina il Comitato Festeggiamenti Montepegli 2000 si è riunito nella sala consigliare del municipio rapallese per la consegna ufficiale di due buste, ciascuna contenente 2.500 euro. Sono il frutto della raccolta fondi che il Comitato ha organizzato nell'ambito della festa patronale del Sacro Cuore di Gesù destinata alle famiglie di Mirko Vicini e Bruno Casagrande, i due dipendenti Amio vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi. Abbiamo scelto di destinare il ricavato della raccolta fondi ai familiari dei due giovani dipendenti Amio per due motivi, spiega Maurizio Vetrugno, portavoce del Comitato. Il primo, la tragica fatalità che ha segnato il loro destino. Erano assunti a tempo determinato per tre mesi e in quei tre mesi la tragedia è costata loro la vita. Il secondo, il presidente del Comitato, Enrico Burlando, è a sua volta dipendente Amio e si farà carico di consegnare personalmente le buste alle due famiglie che abbiamo invitato ad essere qui oggi, ma il dolore a poco più di un mese dalla tragedia è ancora troppo forte e comprensibilmente hanno preferito declinare l'invito. E la piccola comunità di San Michele di Romaggi a San Corombano Certeno li ha festeggiato il santo titolare della parrocchia. La messa solenne è stata celebrata dal parroco Don Daniele Berogno e seguita la processione lungo le vie del Borgo. Per l'occasione fanno ritorno a Romaggi molte persone originarie della frazione e residenti altrove. Al termine della celebrazione sono stati ricordati i 25 anni di matrimonio di Marina Enrico Romaggi, due persone molto legate alla comunità e attive in paese e in parrocchia. La comunità di San Michele a Soglio di Oriero festeggia il santo titolare sabato prossimo nella preparazione alla festa. Giovedì ai 27 alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa in località Pian dei Ratti con offerta dei fiori al santo e la benedizione dei bambini. Sabato memoria liturgica di San Michele. Alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Don Federico Tavella. Seguirà la processione con l'arca di San Michele. Al termine la tradizionale festa sul piazzale. E lo sport adesso? Vela, basket, calcio, bocce, golf e tante altre discipline. Decine di quelle che hanno animato la prima edizione di Sport. Ci sono anch'io l'open day di attività dedicate alle persone con disabilità. Promosso dall'associazione Benedito Acquarone e dal villaggio del ragazzo in collaborazione con la consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate. Una grande festa dello sport a cui hanno potuto partecipare davvero tutti. Sentiamo. Com'è stata pensata una giornata sportiva così? La giornata che si è sviluppata su più sedi è stata pensata come un punto di incontro delle varie esperienze delle società sportive che già oggi realizzano attività a favore della disabilità o comunque delle fragilità. Quindi sono persone, sono amici con cui c'era già un rapporto, una relazione con cui vogliamo andare verso un progetto organico. Vogliamo rafforzare le nostre esperienze e questo è un punto di partenza. Il centro Acquarone ha messo a disposizione le sue strutture che sinceramente non sente neanche proprie. Sono le strutture di tutti, di tutti coloro che le possono utilizzare e averne un beneficio. E' anche l'occasione per ricordare che esiste lo sport tipo il basket in carrozzina e tanti altri come questo per tutte le persone che possono farlo. Sì, posso dire cosa ha detto l'assessore regionale che chi fa sport invecchia meno, chi fa sport si sente meno solo, si sente meno depresso. Infatti lo sport non ha età, lo sport inizia da pochi mesi di vita e finché la vita ce l'abbiamo. Penso che non esista difficoltà per nessuno per fare attività sportiva, ognuno con il proprio indica o con la propria diversità. E' fattibile per tutti lo sport. Anche i colori della Virtus Entella oggi presenti al centro Veneta Quarone. Siamo stati invitati per fare un'esibizione di calcio dove giocheremo a breve un amichevole col team degli insuperabili di Genova. Il nostro progetto è stato sposato dalla Virtus Entella in un progetto che parte dall'Academy con la società Priam Arliguria di Savona dove appunto come Academy poi è nato anche oltre con la nostra società che vanta 170 atleti questo team special dove oggi abbiamo portato questi quattro ragazzi che a novembre insieme a una rosa composta da 12 ragazzi affronteranno il campionato di quarta categoria ad Alessandria con le maglie dell'Entella. Mi segnaliamo intanto che le interviste più complete saranno proposte nella puntata di questa sera di Si può dare di più in onda alle 21.10 su Telepace 1 al Canale 15. In tema di Virtus Entella un incontro urgente con il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabricini e il direttore generale dell'Ente Michele Uva lo hanno chiesto con una lettera indirizzata anche al presidente del CONI Giovanni Malagò Luca Nizzetto e Rocco Boscaglia in rappresentanza dei calciatori e dello staff tecnico della Virtus Entella a cinque giorni di distanza dalla decisione del collegio di garanzia dello sport che ha disposto la retrocessione del Cesena e non della squadra bianco celeste al termine dello scorso campionato di Serie B la federazione gioco calcio non ha ancora assunto i provvedimenti amministrativi necessari a dare attuazione a quanto sentenziato mentre la squadra non può scendere in campo per la sospensione delle sue gare nel campionato di Lega Pro. Per questo giocatori e società chiedono di fare chiarezza su questi ritardi che si legge nella lettera stanno recando un danno enorme alla Virtus Entella ai calciatori e al suo staff tecnico ai tifosi della squadra e alla credibilità del calcio italiano. Dal calcio adesso al basket il grande basket si è mosso per portare il proprio aiuto e la propria vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del ponte di Genova. Alla Spezia si è disputata un amichevole di lusso tra Dinamo Sassari e Vittoria Libertas Pesaro. Le due società di Serie A si sono subito date disponibili per dare ferri da sfondo ad una giornata in cui sono stati raccolte fondi per gli sfollati. Per la cronaca l'incasso della partita che si è girato sui 10.000 euro è stato triplicato grazie al sostegno di Banco di Sardegna e Reale Mutua Assicurazioni. Vediamo com'è andata. Genova nel cuore non solo dei Liguri. Al Palamariotti di La Spezia si sono uniti i cuori dello sport e della solidarietà di quanti hanno operato nell'emergenza, di quanti hanno voluto accogliere questa occasione per rinnovare il proprio aiuto a chi sta patendo le conseguenze del crollo del ponte Morandi di Genova. Testimoniamo la vicinanza a Genova, ai suoi cittadini, a chi ha avuto purtroppo questo grave lutto e questa grande sofferenza. La Spezia è onorata di poter dare un contributo e speriamo di essere imitati da tanti in Italia. Una vicinanza che continua e che fa seguito a quella ricevuta nei giorni dell'emergenza da chi per primo ha operato tra le macerie. Grazie a Genova perché in occasione dei nostri interventi abbiamo trovato una partecipazione straordinaria della gente di Genova. Dai caffè trovati pagati nei bar, alle persone che ci portavano focaccia, acqua, termos di caffè. Per noi queste sono le cose che hanno un valore infinito. Sullo sfondo la partita di pallacanestro con due società di Serie A, Dinamo Sassari e Vittoria Libertas Pesaro. Anche qui un cuore solo ha mosso i due presidenti a farsi tramite dell'evento benefico. La cosa bella è stata che in realtà Ario mi stava chiamando per lo stesso argomento. Quindi diciamo che è stato un incrocio di telefonate in ettere perché comunque io credo che se lo sport per quello che riguarda noi il basket non sia capace di fermarsi rispetto a degli eventi che vanno al di là di qualsiasi pianificazione sportiva o di qualsiasi evento sportivo, allora noi non stiamo facendo bene. Credo che Genova sa sempre rispondere e sa sempre tirarsi sulle maniche e affrontare i disagi che purtroppo ogni tanto capitano in questa regione. Comunque siamo contentissimi. Ringrazio Stefano e la Dinamo Sassari perché è vero che io pensavo la stessa cosa ma forse Stefano è stato più veloce di me e quindi abbiamo messo in piedi questa giornata veramente di basket ma soprattutto per chi in questo momento la fortuna non gli ha aiutati. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 26 settembre. Continua la mostra Ricordiamo perché non accada mai più, promossa dall'Anfas, allestita a Villa Queirola da Pallo e visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sono ancora aperte le mostre legate ai 30 anni della Scuola Chiavarese del Fumetto. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella Torre Civica di Chiavari è visitabile l'esposizione i maestri. Dalle 17 alle 19.30 nel foyer dell'Auditorium San Francesco si potranno ammirare le opere realizzate dai professionisti ex allievi della scuola. Con gli stessi orari ma Palazzo Rocca mostra dei lavori prodotti in collaborazione con enti e istituzioni regionali. Come ogni mercoledì è possibile visitare dalle 10 alle 12 il Museo di Cesano di Altesacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. L'ingresso è libero. Al via Portofino il progetto europeo Reconnect per la mitigazione del rischio idrogeologico con soluzione Nature Based. L'appuntamento è al Parco di Portofino alle 13.00. Prosegue l'undicesima edizione dei Dialoghi sulla rappresentazione promossi dal Teatro Pubblico Ligure. Alle 21 a Palazzo Tursi a Genova si terrà l'incontro Cefalonia 1943 la strage della divisione Acqui, una memoria divisa a cura di Marco De Paoli e Renzo Parodi. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Teguglia Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il Buongiorno di Teleradiopace insieme a Marco Revello alle 12.45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.